ciao a tutti amici ben ritrovati nel canale ok oggi video dedicato a la rissa la rissa che voleva una doppia sfida da 5 eccola qua bene non mi ha chiesto comunque il numero ok bene allora passiamo la nostra cattata e buona visione a tutti ok allora numeri vincenti 31 21 44 32 e 43 ok allora primo numero 41 segue 16 poi abbiamo 11 e poi 27 che non abbiamo abbiamo 17 24 non c'è 42 neanche perché abbiamo il 43 codice 31 bene abbiamo pizzicato il numero un numerino c'è uscito cara la rissa ok bene allora proseguiamo segue 37 niente poi abbiamo 49 che non c'è abbiamo 12 e 40 niente allora il numerino e il 31 comunque ma facciamo perché qui c'è il dopo gioco degli importi no allora io ho fatto prima gli importi gli altri importi all'ultimo creato quello che abbiamo vinto bene ok allora primo importo 10 euro seconda importo 1000 poi segue 20 e 500 poi 25 20 euro no no venti euro solo abbiamo due volte ok 500 ce l'abbiamo anche due volte con il 31 lo cretiamo all'ultimo 500 mila 10 mila 10 mila e 100 euro bene 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 vediamo un po' quello che ci mostra il 31 5 euro non ci spostiamo troppo vabbè comunque ora la rissa almeno non è perdente questo bigliettino ok ti ringrazio comunque per la richiesta e niente continua a seguirmi come anche tutti voi continuate a seguirmi e fate le vostre richieste e sempre c'è un po' da baggentare ci sa specialmente se sono numeri e se mi chiede il numero preciso volevo dire e bene la lina fa quello che vuoi state sicuri e io spero di non deludere nessuno e se qualcuno lo dimentico mi raccomando scrivetemelo e ricordatemelo ok grazie grazie ancora e niente qui chiudiamo il video con una bicitina di 5 euro e recupero del biglietto comunque meglio di niente ok grazie a tutti per la visione un bacio e un abbraccio dalla lina ciao alla prossima ciao